Ciao a tutte, allora eccomi ancora qui con voi, spero che mi perdonerete, il tempo è veramente pessimo, io mi sono organizzata come posso con tutte le mie piccole luci, vabbè comunque passiamo ai fatti. Allora oggi vi voglio recensire i due prodotti dell'Essence che sono Base Coat e il Top Coat, per l'appunto ho aspettato a togliermi lo smalto perché ho voluto aspettare il più possibile, so che è brutto, però uno deve fare la prova no? Allora, è un mese che ho lo smalto, fate come potete vedere quanto mi è cresciuto a lunghi, infatti mi si è rotta a metà, comunque guardate, un mese, guardate qui, solamente la parte in cima, vabbè che c'entra, poi mi si sono anche un po' screpolate, scusate il dito, mi si sono screpolate, ok? Però è un mese, gli altri smalti che io ho come Base Top Coat manco tre giorni, capisci? Proprio mi si stacca lo smalto come se ci avessi messo sotto, sopra l'unghia, che ne so, un pezzetto di scotch, uguale, proprio mi fa e mi si toglie. Ora, quando utilizzerò quell'altro, ve le farò vedere quello che succede. Allora, il prezzo di questi, mi pare che si aggira sui 3 euro e qualcosa, le trovate dappertutto in qualsiasi, se ce le trovate, premetto se ce le trovate, perché io prima ho trovato, mi pare, questa, il Top Coat, e dopo ho trovato questo, però ho aspettato a usare perché, avendo sentito Annalisa Superstar, che ringrazio, io con questi ho svoltato. Infatti ho detto, ora, ho aspettato veramente l'inverosimia, adesso non mi ci riesco più a vedere, però, cioè, vi rendete conto? Solamente sbercato appena un pochino in cima, e questo solamente nell'ultima settimana, eh. Poi, vabbè, certo, poi mi si è rotta l'unghia, quindi bisogna che me le tolga perché non ne posso più, e perché le ho troppo lunghe. Quindi facendo le cose mi dici, mi intruppo sempre, sempre, non è possibile quando c'è da fare le cose, i costunghi si vanno afficcati da tutte le parti. E comunque, avendoli intruppati a destra a manca, sentite, perché queste poi ve le induriscono anche, questa è una cosa importante. E, comunque, ottimi, ottimi, veramente 10 e lode, sia per il prezzo che per la loro funzione, diciamo così. Ok, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!